una variazione di bilancio da 150 milioni il consiglio regionale contro la violenza sulle donne il più grande spettacolo è la ricerca serata di raccolta fondi per la lotta al cancro nuova edizione di consiglio news ben trovati concluso da parte dell'aula l'esame dei 31 articoli della variazione del bilancio di previsione finanziario 2023 2025 sono circa 150 i milioni di euro nella variazione del bilancio di previsione finanziario 2023 25 di cui l'aula ha concluso l'esame dell'articolato continuiamo a tenere i conti in ordine continuiamo a dare i servizi che i cittadini piemontesi si aspettano ma miglioriamo alcuni punti importanti io cito la sanità i trasporti quindi trasporto pubblico locale cito la cultura cito anche gli extra lea cioè tutte quelle prestazioni non previste nella sanità che però sono indispensabili per i cittadini tra i punti fondamentali della manovra ci sono le agevolazioni in materia di irap per gli enti del terzo settore le proroghe annuali delle agevolazioni per l'utilizzo dei veicoli ecologici le iniziative di formazione per la sicurezza stradale e la formazione in materia di guida sicura per i neopatentati circa 125 mila euro viene inoltre posta attenzione alle necessità delle terre alte con lo stanziamento di 900 mila euro quali contributi ai comuni per l'acquisto di mezzi sgombra neve 1,5 milioni di risorse per il contrasto e il contenimento della peste suina e sempre in tema di animali lo stanziamento per un'iniziativa regionale innovativa gli ambulatori veterinari sociali sul fronte della cultura da registrare ulteriori 2,6 milioni di euro a favore del salone internazionale del libro 23 milioni per il diritto allo studio universitario e 8 milioni per promuovere l'evento ciclistico internazionale grande partenza del giro d'italia 2024 200 mila euro l'anno vengono stanziati per assicurare le risorse necessarie per garantire le cure sanitarie domiciliari fuori regione ai cittadini piemontesi non solo riduzione di tasse ma anche aiuti al diritto allo studio quindi il diritto allo studio per i studenti universitari poi tantissimi altri provvedimenti come per esempio l'aiuto a una manifestazione sportiva di rilievo quella più famosa che c'è in italia il giro d'italia che quest'anno tra l'altro inizierà proprio partendo il 4 maggio dalle zone di superga perché ci sarà il 75esimo anniversario della della strage di superga del grande torino relatori di opposizione silvio magliano moderati francesca frediani movimento 4 ottobre unione popolare e diego sarno partito democratico le nostre due battaglie principali che non esistono dentro la variazione su due questioni importanti la prima sono i voucher scuola soprattutto per trasporti e libri di testo ma anche per le scuole paritarie il secondo tema è per l'RSA e per le rette sociali cioè famiglie che hanno difficoltà a gestire i popri cari i popri anziani e che non riceveranno nessun tipo di contributo in un momento di grande difficoltà il consiglio regionale in prima linea contro la violenza sulle donne non crederci se ti tratta male e poi ti dice non lo farò più questo è il titolo della mostra ospitata in consiglio regionale che ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di sos donna in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre siamo tutti emotivamente ancora più coinvolti e scossi dopo l'ultimo gramma che ha visto l'uccisione della giovane giulia cecchettino da gennaio ottobre 2023 sono 131 gli arresti per violenza di genere effettuati dalla polizia di stato solo nella provincia di torino 19 casi di violenza sessuale 71 casi di maltrattamento in famiglia 41 casi di stalking mercoledì in occasione della seduta dell'assemblea sono stati esposti all'entrata dell'aula consigliare i dieci pannelli con le frasi più frequentemente pronunciate dagli uomini per giustificare la violenza compiuta curati dalla scrittrice e giornalista laura nosenzo responsabile di sos donna e da giorgia san lorenzo artista e scultrice i consiglieri e le consigliere hanno esposto il cartello con l'hashtag non crederci e hanno scritto pensieri e riflessioni sulle lenzuola di smesse dell'ospedale cardinal massaia di asti usate nella campagna come grande registro delle firme su cui ci sono scritte dei visitatori delle varie tappe itineranti della mostra e delle stesse vittime di violenza che hanno voluto lasciare un segno delle loro toccanti testimonianze impegno concreto e sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza di genere il consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti due atti di indirizzo sul tema il primo documento primo firmatario alberto preioni lega impegna la giunta ad attivarsi affinché vengano predisposti incontri nelle scuole per sensibilizzare al rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze l'ordine del giorno affirma domenico rossi partito democratico impegna l'esecutivo a implementare il lavoro di rete a sostegno delle donne vittime di violenze delle loro famiglie ad attivarsi per sostenere progetti di educazione affettiva e sentimentale nelle scuole a favorire percorsi per l'indipendenza economica delle donne è nostro dovere ricordare ebito scafidi che il 22 novembre 2008 moriva a scuola travolto dal crollo del controsoffitto della sua aula presso liceo darvi in dirivoli lo ha fermato in aula il presidente del consiglio stefano all'asia in occasione della giornata per la sicurezza nelle scuole l'assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento saranno devoluti all'istituto di candiolo i fondi raccolti nel corso della serata benefica organizzata dal consiglio regionale dalla fondazione piemontese per la ricerca sul cancro il più grande spettacolo è la ricerca consiglio regionale del piemonte fondazione piemontese per la ricerca sul cancro insieme per una serata benefica in programma il prossimo 6 dicembre alla casa del teatro ragazzi di torino il cui ricavato sarà finalizzato alle attività di ricerca e cura oncologica dell'istituto di candiolo invitiamo tutti i piemontesi a partecipare a questo bellissimo evento di solidarietà con il consiglio regionale e con la fondazione candiolo tanti gli artisti che hanno deciso di sostenere la serata che sarà presentata da cristina chiabotto madrina della fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e da walter rolfo presidente e ceo di masters of magic tra i tanti volti noti che si alterneranno sul palco ci saranno luca barbarossa il duo comico i senso doppio con watts elisa muto del circo vertigo oscar giammarinaro degli statuto le giovani cantautrici torinesi canta fino a dieci anna castiglia cantante reduce dal talent x factor il sunshine gospel e la miss italia piemontese francesca bergesio avere con noi un'istituzione come il consiglio regionale del piemonte diventa un'occasione importante l'istituto di candiolo si prepara a mettere a disposizione nuovi spazi per i ricercatori circa 3.000 metri quadri scrivere l'inno del piemonte questo uno degli obiettivi del centro gianni oberto il cui comitato consultivo ha iniziato la sua attività dopo le recenti modifiche legislative le ultime designazioni fatte dall'aula si è insediato il nuovo comitato consultivo del centro gianni oberto che dal 1980 allo scopo di salvaguardare promuovere il patrimonio culturale piemontese compreso quelle o delle minoranze linguistiche attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario e la promozione di attività di studio e ricerca alla riunione hanno partecipato i consiglieri federico perugini lega e alberto avetta partito democratico in qualità di componenti del comitato consultivo vivere questi momenti per poter condividere con esperti della cultura del patrimonio culturale piemontese quella selezione che andrà a individuare le iniziative quei momenti che tuteleranno il patrimonio culturale storico della nostra terra è un privilegio e cercherò di profondere il più ampio impegno bene ha fatto questa consigliatura questo consiglio regionale a ridare vita ad aggiornare la legge sull'istituzione e quindi ad allargare anche i compiti che questo centro si pone francesca bergesi o miss italia 2023 è stata ricevuta a palazzo lascaris francesca bergesi o miss italia 2023 è stata ricevuta palazzo lascaris dal presidente stefano all'asia dal vice presidente francesco graglia e dal consigliere paolo de marchi francesca la conosco da sempre l'ho vista crescere e quindi una grandissima soddisfazione per un piccolo paese di 2000 anime avere anche miss italia la diciannovenne di cervere e la quinta piemontese ad aggiudicarsi il titolo di più bella d'italia io il piemonte voglio raccontarlo sotto moltissimi aspetti che vanno dal cibo all'economia anche le istituzioni sono fondamentali quelle che ci aiutano ogni giorno ad andare avanti non vedo l'ora di girare l'italia portando sempre nel cuore con me il mio piemonte la mia terra prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie aggiornamenti sull'attività del consiglio regionale del piemonte e anche il nuovo virtual tour di palazzo lascaris che valorizza in maniera interattiva la sede del consiglio attraverso foto ad altissima risoluzione e a 360 gradi percorsi guidati quiz questionari avatar l'utente libero di muoversi all'interno dei vari ambienti focalizzandosi sugli elementi di interesse accompagnato da una voce narrante per questa edizione è tutto arrivederci